Allora, questa grotta deve necessariamente essere censita per legge, non lo dico io perché esiste e persiste e è ampia come si vede dalla descrizione sommaria che Fino Tommaso ha fatto. Allora, è altrettanto vero che qui dentro ci sono delle ampie buche. Ampie buche sta a significare qualcuno forse era in cerca di qualche cosa e qui che c'erano? Secondo me c'è un cimitero, noi diciamo cimitero, ci sono dei morti. All'epoca prima si moriva, l'età media forse 25-30 anni, quindi si moriva anche molto giovani. Allora sono stata alla grotta Continenza, alla grotta Continenza hanno fatto un'apposita relazione, non so quando è, 30 anni fa. Adesso l'hanno chiusa, sbarrata, non si può accedere, si può solo accedere dall'esterno. Tutto il resto della storia Continenza si evidenzia da un libro scritto appositamente, anzi all'ingresso alla grotta Continenza c'è la cartellonistica che indica tutta la storia della grotta Continenza. Quindi la stessa cosa dovrebbero fare qui, anzi questa è ancora più suggestiva, perché si parte dalla strada provinciale, si sale qui, si ripristinano, vengono ripristinati i vecchi sentieri, non ci vengono niente, qua un biccone, pala, badele, la motosega che si dice spuglia e si viene qui. Quindi questo è il futuro turismo archeologico al comune di Luco dei Marzi. Oltre a questa grotta aggiungiamo l'altra grotta nella Selva dei Prati, dedicato al sottoscritto Tommaso Pena, alias Cannone, soprannominato Cannone, sì. Ci hanno messo la segnaletica grotta Cannone, adesso non mi rimane altro per proseguire il mio itero escursionistico, io conosco benissimo questa montagna, perché la mia passione è fare escursione, passeggere in montagna e vado dove mi conduce l'istinto. Oh, e qua che ci sta? Oh, le neda. Hanno cominciato le neda, ecco, pure sopra. No, diciamo, ma che c'è la di neda? Vi so del pezio. Luvpa, eh, tanti animali.